Do il benvenuto, il bentornato nei nostri studi a Gianpaolo Usai, che è educatore alimentare, fondatore del sito ciboserio.it che vi invito a visitare, nonché, lasciami definirti Gianpaolo, un sicuramente esperto di spesa consapevole, su questo stai facendo grandi operazioni di educazione per tutti noi. Grazie per l'invito. Benvenuto e ben trovato. Abbiamo messo nel mirino tre situazioni, tre argomenti, tre cibi, diciamo così. Il primo è l'ananas, parliamo di ananas che si trova sulle nostre tavole, ovviamente purtroppo anche fuori stagione, se c'è una stagione per la frutta e la verdura ormai tendiamo un po' a smarrirla, ma bisogna sicuramente recuperarla. Ecco, facciamo un focus allora sull'ananas. Sì, è un frutto molto interessante, molto amato in Italia, come tutti sanno è un frutto esotico, quindi arriva dalla Sud America sostanzialmente. è interessante il fatto che questo frutto abbia una filiera particolare, nel senso che viene prodotto sostanzialmente nell'arco di 15 mesi. La caratteristica di questa pianta è che produce un solo frutto per volta e il ciclo di produzione dura 15 mesi. Poi la pianta dell'ananas sostanzialmente può fare tre cicli di produzione, dopodiché va semplicemente ricambiata. E questo è il motivo sostanzialmente per cui è molto costoso come frutto, ha un costo elevato proprio per questa sua caratteristica di produzione. È importante conoscere il fatto che comunque sia questo frutto viene aiutato con la chimica, come tutti gli altri frutti dell'agricoltura convenzionale. È importante conoscere questi aspetti, nonostante poi vedremo comunque abbia delle caratteristiche nutrizionali molto interessanti. Quindi comunque lo possiamo utilizzare tranquillamente come alimento. Ma in maniera naturalmente sempre consapevole. Esatto, in maniera consapevole conoscendone i pro e contro sostanzialmente. Fra incontro mettiamo sicuramente il fatto che viene aiutato nella sua maturazione attraverso degli ormoni. Quindi sostanzialmente affinché poi nell'ultima fase di produzione diventino tutti gialli i frutti, arrivino a piena maturazione, si spruzza nel campo, nella pianta stessa, un ormone che è chiamato etilene sostanzialmente e appunto accelera nell'ultima settimana la produzione di questo frutto. Inoltre vengono dati anche prima, diciamo in fase preventiva, degli insetticidi per tenere lontani i parassiti e poi se eventualmente dovesse arrivare una infestazione di qualche parassita particolare viene trattato anche con degli altri pesticidi che sostanzialmente, qui un po' la diatriba, essendo che arriva dal Sud America, sono dei pesticidi che alcuni sono ammessi anche nella UE, altri invece non sono proprio ammessi, sarebbero vietati, però lì li utilizzano, li utilizzano abbastanza di routine diciamo e quindi noi quando andiamo a mangiare questa frutta che arriva da parti distanti del mondo in cui ci sono legislazioni anche diverse, sostanzialmente una piccola quantità di questi residui chimici tossici li assumiamo, ecco sostanzialmente è questo un po' il problema. Oggi ci sono anche gli ananas biologici, quindi in parte questo aspetto della chimica è molto mitigato, però il mercato europeo e italiano ancora richiede molto l'ananas convenzionale. Da un punto di vista nutrizionale ti dicevo è molto interessante perché è un frutto su cui sono stati fatti tanti studi scientifici per via del fatto che contiene un enzima particolare chiamato bromelina che è in grado di arrestare diciamo anche a livello di antiossidante, ha una funzione anche antiossidante, antinfiammatoria contro diverse patologie. Hanno utilizzato gli estratti di bromelina per monitorare delle persone che avevano per esempio problemi di cataratta o problemi di asma, si è visto che è molto potente nel ridurre l'effetto infiammatorio di queste patologie. Poi addirittura qualche anno fa hanno utilizzato anche in medicina, per esempio all'ospedale di Bologna, hanno fatto un esperimento col succo d'ananas, addirittura arrivando ad utilizzarlo come sostituto del mezzo di contrasto chimico, diciamo quello che ha una certa tossicità per il paziente. Proprio per via del fatto di questo enzima si riesce ad utilizzarlo come mezzo di contrasto con ottimi risultati per un esame specifico, un esame radiologico che si chiama colangiografia, in sostanza all'analisi delle vie biliari dell'organismo e in due anni l'ospedale di Sant'Orsa di Bologna ha fatto notevolmente anche un risparmio di soldi perché al posto di spendere circa 15 mila euro hanno speso 800 euro per utilizzare questo succo di ananas che tra l'altro per i pazienti è risultato anche molto più gradito.